Sì, stavamo attendendo con D'Agasso e dobbiamo commentare questa partita che non ha dato quello che volevate, no? Purtroppo non siamo riusciti a portare i tre punti a casa, che era il nostro obiettivo, diciamo. Però comunque secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo creato diverse occasioni, ma è andata così. Che cosa è mancato secondo te? Secondo me l'unica cosa che ci è mancato è un po' di concretezza sotto porta, come era successo secondo me già anche con il Pineto. Però domenica prossima abbiamo un'altra partita e dobbiamo concentrarci su quella. Soprattutto non era facile contro un Vispesaro che vi ha difeso in sette, no? Sì, loro erano molto chiusi dietro e abbiamo cercato soprattutto il secondo tempo di smuoverli come cicli del mister. Attraverso due le giocate che proviamo in settimana, però purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro.